Ciao a tutti, oggi vorrei farvi vedere questo video, che è un video haul però di prodotti per il make up e per la pelle, insomma, prodotti ambito beauty. Ho acquistato un nuovo mascara della Pupa, cioè nuovo, non so da quando, credo sia uscito da un annetto, però io l'ho provato solo adesso, che è il mascara Vamp, questo qua. E questa mascara non l'avevo mai provato, è il numero 100, cioè che sarebbe il nero, e c'è anche disponibile marrone, blu e non ricordo altri colori, e mi piace molto perché se potete vedere lo scovolino, ha uno scovolino che la parte iniziale e la parte finale sono un po' più grandi e così quando viene applicato sulle ciglia dispone, ha delle setole che dispongono veramente bene il prodotto per quello che è il mascara. A me piace molto, non fa grumi, se volete una passata leggera allunga molto le ciglia, se volete una passata leggera o comunque un mascara molto leggero potete metterlo un paio di volte, cioè due passate e è già pronto, altrimenti se come me preferite mascara un po' più scuro, lo passate varie volte e il risultato è davvero ottimo. Il prezzo è di 11,50, ho visto che c'è una promozione in profumeria in cui se acquistate dei prodotti della Pupa mi pare del valore di 10 euro, ma non sono esatto, non credo sia esatto, vi regalano una boccetta, una mini mascara della Pupa Bump. Un altro prodotto che è tra i miei preferiti ultimi acquisti è lo smalto che sto indossando adesso, questo qua, che è il Lasting Color numero 408, sempre della Pupa, è questo colore qui, è questo prugna che è lo stesso che vedete nel rossetto, questo prugna molto intenso, davvero davvero bello, ve lo consiglio, ormai mi sono praticamente pissata con questo colore e come vedete lo sto usando un sacco. E appunto, rimanendo il tema, questo vi dico il prezzo, 3,95, appunto rimanendo il tema del colore, quello che sto indossando sulle labbra è questo rossetto della Sephora, che sarebbe questo qua, e è il numero R23, c'è questo viola molto intenso, molto simile allo smalto. A me piacciono molto i rossetti della Sephora, perché li trovo davvero molto pigmentati e molto buoni, molto buoni come prezzo. Adesso, allora, questo l'ho pagato 14,50. Poi, sempre negli ultimi acquisti, ho acquistato il mio fondotinta, che ormai sto utilizzando, ho deciso di prolungare il suo utilizzo anche nell'inverno, della Deborah, 24 Ore Perfect, che è in crema, e nell'estate, o comunque nei video precedenti, vi lascio il link del video, utilizzavo il numero 3, il Caramel Beige, mentre adesso, ovviamente, il mio colore è leggermente più chiaro, e quindi sono scalata al True Beige, il numero 2, che io mi trovo davvero bene con questo fondotinta, e il prezzo comunque è davvero buono, perché mi pare si chiama 15,90, 15,95, insomma, un prezzo davvero ottimo, e soprattutto per chi, come in me, ha la pelle leggermente tendente al misto grasso, è un fondotinta che dura abbastanza, e lascia la pelle non lucida. Poi, altri acquisti, ho acquistato questo pennello della Sephora, che ancora ho avuto poco modo di provarlo, che sarebbe per applicare il fondotinta, è il numero 47, e questo l'ho pagato, mi pare, sui 13 euro. Poi, sempre alla Sephora, mi hanno regalato questa crema idratante, che sarebbe per il viso, corpo, le mani e capelli, capelli, face, body, hands and hair, vediamo che c'è scritto, è tutta in inglese o in francese, per tutti i tipi di pelle, può essere utilizzata anche sui capelli come maschera, applicata per 5 minuti e poi risciacquare, boh, magari la proverò, come crema me l'hanno regalata perché la tesserina, ho la tesserina della Sephora, e mia mamma ha fatto il compleanno, quindi c'era questo regalo e il raddoppio dei punti. Non è male come crema, mi dico la verità, mi sembra abbastanza idratante, e il profumo è buono, davvero molto buono, mi piace. Dopodiché, cosa ho acquistato? Ho acquistato l'acca, la lacca della L'Oreal, che è l'unica lacca che non puzza, perché è questa qua, la Studio Line Silk & Gloss, e per me è l'unica lacca che non mi dà l'odore, non mi dà fastidio l'odore, perché molte lacche, per esempio quelle della Fructis o un'altra dell'Oreal, quella d'oro, non mi ricordo come si chiama, mi danno un fastidio allucinante e non riesco ad usarla, questa invece l'odore è buona, quindi uso questa, anche la tenuta è molto buona. Sempre negli ultimi acquisti, però un acquisto che è stato abbastanza sbagliato, c'è la cipria della Lancome, la confezione è questa, e dentro trovate la spugnetta e la cipria, che secondo me questa cipria non sarebbe neanche male, perché è molto molto leggera, però è troppo rosata per il mio incarnato, perché quando la stendo diventa una bambolina, io non so perché, forse mi sono abituata a una cipria un po' troppo gialla, cioè comunque io ho un sottotono giallo, non rosa, e quindi questa secondo me, su di me diventa un po' troppo rosa. Voi che ne sapete magari di più di cipria, perché io non me ne intendo, un gran che, fatemi sapere perché secondo voi divento rosa con questa, perché non è giusta, perché mi sembra che comunque il mio incarnato cambia totalmente colore, o è troppo scura, sarebbe il numero 4, Pesce Doré, non è male, ve l'ho detto come cipria, l'ho pagata anche un sacco, adesso non ho lo scontrino, ma costa una quarantina di euro, quindi non poco, però non mi trovo bene, non so. Un altro acquisto è questa matita della Hollistar, che uso praticamente tutti i giorni, solitamente io uso la numero 2, è una matita molto sfumabile, come vedete in fondo ha anche il gommino per sfumarla, e solitamente io uso la numero 2, è a marrone molto molto scuro, quasi al nero, mentre questa ho sbagliato a comprarla, e ho comprato la numero 7, che è un marrone, adesso vi faccio vedere, è un marrone un po' più chiaro, e leggermente leggermente glittera, cioè quasi come se sotto avesse dei glitter, quasi come se sotto ha dei glitter dorati, ha dei glitter dorati sotto, e mi piace, però mi piace molto, molto morbida, molto sfumabile, e mi piace, non mi ricordo il prezzo, perché l'ho acquistata precedentemente, comunque la Hollistar non ha dei prezzi altissimi, medio o medio altri. Niente, credo di aver finito, questo è il mio beauty haul, e niente, spero che i prodotti vi piacciono, fatemi sapere cosa ne pensate, e ci vediamo presto, un bacione!